Non più tardi di una settimana fa abbiamo parlato di Roma, perché si è parlato del futuro di Manolas e dell'arrivo di Monci. Ma forse sarebbe anche il caso di curare un dettaglio che forse tanto dettaglio non è. Perché se c'è un personaggio all'interno della società che è messo al centro di discussioni per il suo futuro, è il mister Spalletti. E allora parliamone! Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo episodio della serie in cui parlo di calcio. E della serie più precisamente da qualche video a questa parte, il mio pensiero contro il pensiero del web. O meglio, il mio pensiero è il pensiero del web, perché poi non è che vanno in contrasto, cioè che cazzo è una partita? Ma comunque l'argomento è forte e chiaro, Luciano Spalletti, l'allenatore della Roma che non si sa cosa farà l'anno prossimo. Anche se ovviamente prima di iniziare ci tengo a invitarvi a lasciare like per supportare questa serie e a lasciarmi un commento qui sotto sempre con la vostra, ma poi ne parleremo. Ma tornando a noi, partiamo dal principio, da quando in quel lontano gennaio 2016 Spalletti dopo ben 7 anni torna alla guida dell'AS Roma. Diciamo che da quando è arrivato ha provato subito a mettere una cosa in chiaro, sono tornato per vincere. E a volte questa sua affermazione è stata messa anche al centro di varie polemiche, però giustamente il suo ragionamento ha senso. Lui il massimo risultato, oltre a una Coppa Italia, anzi a due Coppa Italia e a una Supercoppa, che ha ottenuto con la Roma, è stato proprio il secondo posto. E allora sì, torna a Roma per vincere qualcosa. E io perché sto partendo da qui ragazzi, per quanto riguarda il mio pensiero? Perché è una cosa che si collega ed è perfettamente in tema. Mi spiego meglio. Spalletti ha 58 anni, ok? Non è sicuramente un allenatore novellino e quindi è chiaro che voglia vincere qualcosa di importante, a parte il campionato russo con lo Zenit. Lo scorso anno ha fatto quello che poteva fare, perché comunque si è ritrovato con una Roma eliminata agli ottavi di Coppa Italia dallo Spezia. Agli ottavi di Champions sì, ma contro il Real Madrid. E quinto in campionato è riuscito comunque a riportare la Roma in Champions. Se poi dobbiamo imputare qualcosa a Spalletti, ma poi lì è proprio per guardare il pelo nell'uovo ragazzi. Cioè qualsiasi allenatore, Guardiola, Mourinho, che è il migliore del notere del mondo, può sbagliare una partita o comunque fare qualche errore di valutazione. E chiaramente mi sto riferendo alla gara contro il Porto, che poi ci è costata l'eliminazione dalla Champions League, dagli preliminari di Champions quest'anno. Ma comunque, a parte qualche sfumatura, è innegabile che Spalletti finora abbia fatto benissimo alla Roma. Ed è anche innegabile che la società magari non abbia speso o investito sul mercato quello che il tecnico sperava che investisse per arrivare a vincere qualcosa. E allora col passare del tempo sono emersi un po' di incomprensioni, no? Spalletti che vuole vincere e Pallotta che pensa alle Bruce Valenze? Cioè fa un po' ridere detto così, no? Però, se ci pensate, questo può essere anche un'eventuale causa di un'eventuale partenza di Spalletti. E allora, se Spalletti partisse quest'estate, giusto per tornare alla domanda iniziale del titolo, Sarebbe un tradimento, un'infamata, un quello che volete, oppure ci può stare? Ci può stare! E ci può stare perché, realizzando tutte le chicche, le sfumature che vi ho dato fino a questo momento, tutte le informazioni vi ho dato fino a questo momento, il concetto è uno. Lui viene a Roma per vincere. Pensa inizialmente che la società vada nella sua stessa direzione, poi col tempo emergono dei problemi. Emerge soprattutto il fatto che la società, per vincere, evidentemente ha bisogno di qualche anno in più. Qualche anno in più che Spalletti, vista anche la sua età, non è in grado di aspettare, perché magari ha l'ambizione per la sua carriera, e quindi a livello personale, professionale, e ci può stare, di andare a vincere da qualche altra parte. Ecco perché vi dico anche che non sarebbe uno scandalo se Spalletti andasse alla Juventus quest'estate. La cosa che mi piace di più di quest'uomo, perché alla fine si parla del lato umano da questo punto di vista, è la trasparenza e il professionismo, se può dire professionismo, comunque diciamolo, da certi lati. Nel senso, spesso gli è stato chiesto del suo futuro, e in particolare una volta gli è stato chiesto Ma se si aprissero le possibilità, lei andrebbe mai alla Juventus ad allenarla? Porca malosica. Che domandina facile. Ora mi coglie di sorpresa, però io faccio questo come lavoro, sono un professionista. E allora un'altra domanda che ci possiamo porre è, ma se parte Spalletti, chi prendiamo? E mi limito a parlare di Spalletti e non delle questioni societarie, del futuro della Roma, progetti e cose varie, semplicemente perché qui sopra, nelle schede, vi lascio il video che è uscito la settimana scorsa, in cui parlo di Monci, Manolas, e lì sono un po' più esplicito da certi punti di vista. Ed ecco perché serve anche il vostro supporto, no? Perché infatti anche questa volta, come sempre, vi ho chiesto il vostro parere, vi ho chiesto il vostro parere, se posso sentire. Infatti su Facebook ho scritto, Spalletti, resta o va? Voi che dite? Dai che voglio sapere la vostra con eventuali motivazioni, muti di vista e sostituti. Il primo commentare è Simone che ci scrive, va, è saturo dell'ambiente romano. E quindi che è un po' il discorso che facevamo prima. Nicola ci scrive, se se ne va Spalletti voglio pallotta allenatore. Bono che quello manco è in grado di fare presidente. Però su sta cosa del sostituto ci avete lavorato parecchio, perché Nicola giustamente ha iniziato con pallotta. Poi Luca continua dicendo, va Bomber, torna Federico Marconi a vincere la Champions. E allora la Roma è campione d'Europa per la stagione 2017-2018! FIFA 18? Anche Filippo ha tirato fuori un sostituto molto interessante, che non sono io, però attenzione, perché dice, se se ne va viene Ranieri. E io regà, ve lo dico, magari. Perché con Ranieri abbiamo sfiorato uno scudetto nel 2010 e io ancora ho la lacrima che mi è rimasta qua, quindi vorrei che tornasse su o che scenda definitivamente per l'emozione. Però vabbè. Dato che, anche come dicevamo prima, Spalletti è uno dei papabili sostituti di Allegri, c'è il signor Fabrizio Pogba Forestieri che ci scrive proprio, da Juventino, per me può restare. È un ottimo allenatore per i miei gusti, alla Roma mancano solo dei giocatori chiave. Sì, Fabrizio, però qui non stiamo a parlare del fatto può restare o non può restare, cioè non è che siamo noi che decidiamo. Cioè, per me, come tutti i dimenti della Roma, può restare, è chiaro. Qui stiamo dicendo la sua decisione, se andrà o non andrà. Però, tranquillo, non fa niente, tu torna a pensare a Pogba. E allora, ragazzuoli, siamo arrivati alla fine di questo video che spero, come al solito, ovviamente, che vi sia piaciuto anche perché abbiamo sprazzato un po' dalla professionalità e quindi dal mio pensiero, poi al delirio sul web perché, regalo, ogni volta leggo dei commenti assurdi. Anzi, stavolta, devo dire, vi siete anche abbastanza regolati rispetto all'ultima volta. E però, comunque, nel dubbio, lasciate like se il video, appunto, vi è piaciuto altrimenti fatevi i cazzi vostri. Noi ci becchiamo con i prossimi video in settimana, mercoledì esce la carriera e poi, soprattutto, ci vediamo a Romics, venerdì, sabato e domenica. Ma domenica, regà, domenica, domenica in particolare uscirà un video con una persona. Un drogato, un uomo pazzesco. Wizard Wimp, sì, finalmente uscirà il fuck assieme a lui quindi, ovviamente, dovete vederlo a tutti i costi perché è un video, regà, epico. E concludo dicendo e ricordandovi anche che a Romics mi vedrete con i capelli blu. Detto questo, io vi mando un bacione e bella, regà. Grazie a tutti.